L'associazione ritiene opportuno fare questa conferenza stampa e dare queste informazioni prima che scadano i termini. I termini delle domande sono il 13 settembre. Le aggiorazioni riguardano i soggetti che sono nel cratere, residenti nel cratere, i soggetti che sono nel cratere ma non fuori dal cratere come il Comune di Terramo ma rientrano perché hanno la casa inagibile, le aziende che sono nel cratere e che hanno la sede inagibile. Tutti questi soggetti hanno diritto a una serie di aggivolazioni che vanno dall'annullamento delle fatture a una riduzione dei costi per un determinato periodo. È inutile dire punto per punto il tipo di aggivolazione. La cosa importante è il messaggio che noi vogliamo lanciare, non dormite su questa cosa, attivate i sub, fate le domande, noi siamo a disposizione per dare informazioni e in qualsiasi caso sono domande che portano beneficio alle cittadinanze locali. Prego fare anche un attimo di polemica perché se benedette amministrazioni comunali nel cratere si dovrebbero anche attivare per dare queste informazioni, limitarsi a pubblicare nel sito la delibera dell'autorità è alquanto poco. Ci sono queste possibilità, facciamole con gli altri cittadini che si trovano in uno stato di disagio.